Inquietante episodio e danni del presidente Frattura che si è visto recapitare tre lettere, due delle quali contenenti minacce di morte. Un episodio condannato da tutti i consiglieri che hanno espresso solidarietà al governatore. In corso le indagini della Digos. La giunta regionale ha deliberato la revoca delle autorizzazioni delle centrali a biomasse e chiesto al consiglio di esprimersi. Polemiche sulla stenzione del vicepresidente della giunta Petraroia è invitato a dimettersi dall'opposizione. Buone notizie giungono da Roma, sbloccati circa 10 milioni di euro che permetteranno di rendere cantierabili 26 interventi sui 27 rimanenti. Soddisfatto l'assessore regionale ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni dopo l'incontro con Mauro Grassi. Il Campobasso nell'ultima di campionato ha ritrovato i gol pesanti sulle sue punte. In casa a Termoli anche Dirito è tornato al gol ma nonostante il buon momento della squadra arrivano inaspettate le dimissioni del DS Agliano. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Inquietante episodio ai danni del presidente della regione Molise Paolo Di Laura Frattura che si è visto recapitare tre lettere due delle quali contenenti minacce di morte. Un episodio condannato da tutti i consiglieri regionali che hanno espresso solidarietà al governatore Frattura che si è detto sereno ringraziando al contempo la Digos che sta indagando sull'accaduto. Vediamo. Ai due mesi per ridarci un lavoro altrimenti ti facciamo a pezzi. Queste le parole contenute in una delle tre lettere minatorie indirizzate al presidente della regione Molise Paolo Frattura e recapitate a Palazzo Vitale. Le missive sarebbero state scritte a macchina con ripetuti e pesanti errori di grammatica. Sul caso sono in corso le indagini della Digos di Campobasso che sta cercando di risalire agli autori del gesto. Il contenuto di una delle lettere indicherebbe chiaramente che dietro questa vicenda ci sarebbe qualche malintenzionato spinto da difficoltà economiche. Siamo rimasti in mezzo ad una strada, siamo disagiati ormai al massimo della disperazione una delle frasi riportate. Ma la continuazione è ben più pesante e allarmante. Non è uno scherzo sei avvertito. Fa specie perché chiaramente si coglie il disagio di chi scrive una minaccia di quel tipo. Sono convinto che anche Abbaia non morda, quindi superiamo il fatto mediatico della minaccia. Innanzitutto ringraziamo le forze dell'ordine che come sempre tempestivamente intervengono facendo della prevenzione la cura migliore rispetto anche a episodi del genere. Non cambia la nostra rotta, non cambia la nostra linea. Quotidianamente contiamo a impegnarci sperando di dimostrare ai molisani che gli sforzi che stiamo facendo serviranno, ripeto, a superare il disagio che il Molise sta vivendo. Solidarietà è stata espressa al Governatore e da tutti i consiglieri che hanno condannato l'episodio. Ma è un fatto di una gravità inaudita, ogni commento è superfluo, ovviamente la massima solidarietà al Governatore. Sono cose che anche in momenti difficilissimi, sia dell'economia sia di ordine sociale, sono cose che non sono assolutamente comprensibili, non devono succedere. La nostra è una terra sana, una terra tranquilla, una regione che non ha mai vissuto momenti drammatici di questo tipo di violenza a tutti i livelli, per cui io spero solo che sia una cosa intanto sporadica e isolata, ma sia di qualche folle che non merita nemmeno di essere commentata. Sembrerebbe però che a turbare il Governatore non ci siano solo le lettere, ma anche alcune minacce telefoniche provenienti da numeri sconosciuti, un elemento che va ad aggiungersi a un contesto che ora diventa oggetto di indagine da parte della Polizia. Parliamo ora di innovazione tecnologica, perché la Giunta regionale ha approvato la delibera che stanzia un ulteriore importo di 1.300.000 euro per coprire il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le richieste di tutte le imprese molisane inserite nella graduatoria relativa al bando programmi di innovazione e opportunità di finanziamento per le piccole e medie imprese operanti in Molise. Queste opportunità, ha sottolineato l'assessore Scarabeo, consentono alle tante piccole e medie imprese molisane di ottenere ricadute positive per il potenziamento del sistema produttivo locale, affinché presto si abbiano i risultati sull'occupazione, arginando i gravi problemi economici e sociali che quotidianamente con la crisi che non accenna a diminuire, si evidenziano sempre di più. Seduta animata del Consiglio regionale, la Giunta ha deliberato la revoca delle autorizzazioni delle centrali a biomasse, polemiche sull'astenzione del Vicepresidente della Giunta, Michele Petraroia, invitato a dimettersi da parte dell'opposizione. Una vicenda che risolveremo in maggioranza, ha replicato il Governatore Frattura. Sentiamo. Seduta movimentata del Consiglio regionale, incentrato nuovamente sulle centrali a biomasse. La Giunta regionale, con delibere numero 578 e 579, ha decretato la conclusione del procedimento di revoca delle autorizzazioni dei due impianti alle falde del Matese. La Giunta ha recepito la volontà dei territori, delle comunità, dei sindaci del Matese che volevano che si interrompesse l'iter di autorizzazione prima e poi che si revocasse l'iter di autorizzazione per le centrali assentite. È quello che abbiamo fatto. Adesso chiediamo che questa nostra valutazione di natura programmatoria possa essere condivisa dal Consiglio regionale. Il Presidente Frattura, in aula, ha chiesto al Consiglio di prendere atto del deliberato della Giunta chiedendo l'iscrizione e l'immediata discussione al primo punto all'ordine del giorno, a far discutere in tutta la vicenda l'astensione dell'assessore e vicepresidente della Giunta Michele Petraroia. Incomprensibile una presa di distanza rispetto alla vicenda delle biomasse, ha dichiarato in aula il Consigliere Iorio che ha chiesto le dimissioni di Petraroia. Una scelta che ha un peso politico notevole anche per il Consigliere pentastellato Federico che ha criticato l'iter definito inusuale con cui si è chiesto nuovamente il parere del Consiglio. La maggioranza ha espresso piena soddisfazione per l'approvazione della delibera. Ho ritenuto di esprimermi nuovamente. Già nel passato avevo predisposto e sottoscritto degli atti che prevedevano quindi una sospensione, l'annullamento, la revoca delle centrali a biomasse nel nostro territorio regionale. Quindi mi è sembrato corretto ancora una volta confermare la mia posizione e anche condividere l'azione dell'esecutivo regionale. Tra l'altro, devo dire, questa procedura è, seppur relativamente inusuale, comunque consentita e contemplata all'interno del nostro statuto. Perplessi e sorpresi dall'astensione del Vicepresidente, anche i membri del Comitato No Biomasse. Siamo rimasti letteralmente sorprese. Avevamo avuto qualche sentore che non fosse particolarmente favorevole a questa questione delle biomasse, in senso favorevole alla popolazione. Questo è un problema politico che non interessa a noi più di tanto, perché noi, il nostro fine, il nostro scopo delle popolazioni del Matese, dell'area del Matese, è di ottenere la revoca. Ma non solo di queste due centrali già autorizzate, ma soprattutto a che nella nostra area si parli di sviluppo ecosostenibile. Gli animi si sono poi surriscaldati all'arrivo di Petraroia, che interrogato e più volte incalzato sulle sue possibili dimissioni ha preferito bypassare la domanda. Io ho presentato una proposta di legge che mirava a sospendere con una moratoria, ma che stava dentro un quadro di carattere più generale. La questione non è che fine fa un imbiando, la questione è che politiche energetiche noi portiamo avanti. La stensione del vicepresidente Michele Petraroia fa discutere la maggioranza, pronta a risolvere internamente, ha dichiarato il governatore in risposta Michele Iorio, la vicenda. D'ora una notizia di cronaca, maxi evasione fiscale scoperta a Venafro dalla Guardia di Finanza nel settore del commercio all'ingrosso di carne. L'operazione ha consentito di scoprire un articolato sistema di frode fiscale incentrato sulle transazioni commerciali realizzate negli ultimi anni, che hanno determinato un'evasione d'imposta di circa 4 milioni di euro. Inoltre la società Venafrana ha notato nelle proprie scritture contabili anche fatture false relative ad operazioni inesistenti per più di 3 milioni di euro. L'entità dell'evasione ha consentito di inquadrare specifiche violazioni di natura penale tributaria debitamente segnalati all'autorità giudiziaria di Isernia. E parliamo ora di dissesto idrogeologico. Buone notizie giungono da Roma a seguito dell'incontro tra l'assessore regionale ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni e l'onorevole Danilo Leva con Mauro Grassi, direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Sbloccati circa 10 milioni di euro che permetteranno di rendere cantierabili 26 interventi sui 27 rimanenti. Vediamo. È giunto il tanto atteso assenso per l'utilizzo dei 10 milioni di euro da impiegare contro il fenomeno del dissesto idrogeologico. L'assessore regionale ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni e l'onorevole del PD Danilo Leva hanno incontrato a Roma Mauro Grassi, il direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che ha dato l'ok per lo sblocco dei fondi della delibera Cipe numero 8. Abbiamo confermato i 10 milioni di FSC di carico pubblico, cioè del governo, per i 27 interventi, gli 87 che avevamo programmato, che attualmente erano ancora fuori dal quadro dei decreti. Qualche dubbio resta sul comune di Venafro per via della mancata presentazione del progetto da parte dell'ente, che dovrà necessariamente affrettarsi a concludere l'iter entro il 31 dicembre 2014. Altro nodo da sciogliere è quello che riguarda i 15 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza del fiume Biferno. Si tratta di fondi che erano stati revocati a causa di un rallentamento del percorso di assegnazione delle risorse da parte del COSIB. Ma Nagni e Leva hanno tentato la mediazione, spiegando i propositi per raggiungere con una nuova tempistica tutti gli step necessari. Un percorso che prevede degli step, quindi una nuova programmazione, probabilmente l'idea di indicare come soggetto attore la regione molise, quindi una specie di commissariamento di fatto, che velocizzi un po' il percorso, recuperi questi finanziamenti e rimandi a gara. Per quella zona la messa in sicurezza del fiume Biferno è fondamentale. dovrebbe evitare tutte le alluvioni che hanno poi determinato le sondazioni di quell'area e il rischio per quell'area non solo fisico, ma soprattutto per le culture e per le azioni industriali. La struttura di missione si è riservata di analizzare la relazione in merito alla questione e di valutare la proposta. Disponibilità che fa ben sperare sulla possibilità di scongiurare la revoca dei fondi. E torniamo a parlare delle poste di Venafro. Il sindaco Sorbo ha scritto ai vertici dell'azienda per esprimere la totale contrarietà per la decisione di trasferire il CSD di Venafro ad Iserni a partire dall'11 novembre. Il trasferimento del CSD, si legge nella lettera del primo cittadino di Venafro, avrà ricadute negative per il nostro territorio, perché andrà a penalizzare ulteriormente gli utenti, in particolare i residenti nei comuni di Venafro, Sesto Campano, Pozzilli, Filignano e Conca Casale. Pertanto chiedo di fissare un incontro allargato anche agli altri sindaci del territorio interessato alla questione per un utile confronto che consenta di evitare i disservizi contenziosi e ulteriori disagi sociali, conclude la missiva. E ci spostiamo ora a Termoli, dove finalmente sono stati nominati dirigenti comunali in seguito ad una riunione che si è tenuta nella serata di ieri. Il sindaco Angelo Sbrocca, dopo aver riunito la maggioranza, ha comunicato i nomi individuati per i dirigenti, assegnando tre deleghe su quattro. Ora resta ancora da decidere quella per il settore sicurezza ambientale. Vediamo. Ci sono voluti diversi mesi per decidere i nomi dei nuovi dirigenti comunali a Termoli, ma finalmente l'attesa è terminata. Dopo una lunga riesamina di gradatori e curriculum, il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, ha scelto tre dirigenti su quattro. Infatti per l'ultimo, cioè quello che si occuperà dell'ambiente, bisognerà attendere ancora qualche altro giorno, due o tre al massimo, per verificare ulteriormente i requisiti dei tre finalisti e per evitare possibili ed eventuali ricorsi. Le indiscrizioni dei giorni scorsi sono state rispettate quasi completamente, a partire dalla nomina di Matteo Caruso, ingegnere in pensione, che ha ottenuto i lavori pubblici, un settore molto ambito e su cui c'erano molti competitors. Il suo dovrebbe essere un incarico a titolo gratuito, in quanto proprio perché in quescenza, come docente, la sua nomina sarebbe entrata in conflitto con quanto previsto dal decreto Renzi. A Carmela Cravero, che ha avuto la meglio su Norma Peruzzini, è andato il settore delle finanze. Il sociale invece è andato a Marcello Vecchiarelli, avvocato responsabile del centro per l'impiego a Termoli, che l'ha spuntata in extremis su Antonio Russo, ex consigliere di minoranza della passata amministrazione di Brino. Resta in bilico ancora la delega all'ambiente con il sindaco Angelo Sbrocca, che si è preso qualche altro giorno di tempo per verificare i requisiti dei tre aspiranti ed evitare ricorsi. In pole position, secondo indiscrizioni, ci sarebbe Enzo Vergalito, 38 anni, anche se queste sono voci ancora prive di conferma. Ora che le nomine dei dirigenti sono state ufficializzate, ad eccezione per quella all'ambiente, non resta che aspettare i decreti del sindaco per la loro formalizzazione. Presto anche il comune di Capracotta avrà una sezione primavera per accogliere i bambini dai 2 ai 3 anni, che consentirà alle loro famiglie di usufruire di un qualificato servizio. La sezione è stata attivata grazie ad un finanziamento regionale ed una compartecipazione finanziaria del comune di Capracotta. I bimbi saranno accolti in un confortevole locale presso l'edificio scolastico comunale appositamente attrezzato. Con questa iniziativa, ha commentato il sindaco Monaco, si è voluto dare un ulteriore segnale di massima attenzione al mondo della scuola e della formazione di bambini e ragazzi. Diffusi dall'Istat i dati sugli incidenti stradali in Italia, secondo l'ultimo rapporto, diminuiscono i morti sulle strade italiane. Nel 2013 rispetto al 2012 il numero delle vittime si è ridotto del 9,8%. In controtendenza con il dato nazionale, la regione Molise, dove il numero dei decessi, rivela l'ACI Campobasso Molise, è aumentato. Vediamo. Nel 2013 le vittime di incidenti stradali sono state 3.385, i feriti 257.421, le strade extraurbane, quelle più letali, tra i pedoni a rischio gli ultrasettantenni. E questa la fotografia scattata dall'ultimo rapporto ACI-ISTAT sugli incidenti stradali 2013 in Italia. Una statistica con aspetti contrastanti, che se nei numeri ovviamente non ricalca quella dell'anno precedente, lo fa nel fotografare le situazioni di maggiore rischio. In controtendenza con il resto d'Italia che vede scendere il numero di morti quasi del 10%, la regione Molise, dove tra il 2012 e il 2013 il numero dei morti per incidente stradale è cresciuto del 37%, passando da 19 morti a 26. Diminuisce invece il numero degli incidenti del 12% circa, che nel 2013 sono stati 507 rispetto ai 574 del 2012, così come il numero dei feriti, passato da 1.800 agli 800 del 2013. Nello specifico, in provincia di Campobasso, si sono verificati 369 incidenti, con 586 feriti e 18 morti. In provincia di Isernia, 138 incidenti, 214 feriti e 8 i morti. Sono questi tristi numeri diffusi dall'ACI di Campobasso e Isernia. Ad essere coinvolte nei sinistri, prevalentemente autovetture, seguono veicoli commerciali e ciclomotori. Guida contro mano, distratta, velocità eccessiva e mancato rispetto della segnaletica stradale, le principali cause. Dobbiamo continuare a porre in essere ogni sforzo possibile per ridurre il numero degli incidenti, dei morti e dei feriti sulle nostre strade, attraverso una continua formazione e sensibilizzazione di tutti gli utenti della strada. Il commento del direttore ACI Caturano. L'obiettivo per il nuovo decennio 2011-2020 è di ridurre il numero delle vittime del 50%. In ogni caso, è bene comunque ricordare che la prudenza non è mai troppa. E proprio nell'ambito dei controlli sul territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato per prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera sono stati attuati posti di blocco e di controllo che hanno portato all'identificazione di 525 persone, molte delle quali sottoposte ad accertamento etilometrico. Inoltre sono state accertate diverse violazioni al codice della strada, quattro le patenti di guida ritirate, e cui sono conseguiti i connessi provvedimenti amministrativi di sospensione e decurtazione di punti. E presso la questura di Sernia, il segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di Polizia Gianni Tonelli, ha incontrato gli iscritti per affrontare numerose questioni. Una tra tutte, la proposta di videofilmare l'operato degli agenti alla luce di quanto accaduto nel caso Cucchi. Vediamo. Filmare ogni azione di cui gli agenti sono protagonisti è la proposta del segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di Polizia Giovanni Tonelli, finito nell'occhio del ciclone per aver difeso l'operato degli agenti di Polizia nel caso Cucchi. Tonelli ha incontrato gli iscritti al sindacato presso la questura di Sernia e ha ribadito a gran voce che la proposta di videofilmare ogni azione del servizio degli agenti di Polizia sarebbe un'ulteriore garanzia sia per i cittadini sia per gli stessi poliziotti. La nostra proposta e tutti coloro che in questi giorni hanno equivocato quello che ho detto e si sono scagliati anche in maniera inopportuna nei confronti della mia persona voglio dire invece dovrebbero sostenere quella che è il nostro grande messaggio di trasparenza videocamere che registrino ogni nostro respiro dal primo istante all'ultimo del servizio. Tre temi affrontati nel corso della conferenza stampa anche i tagli e i trattamenti economici degli agenti di Polizia. Secondo il segretario generale del SAP il tetto salariale sarebbe finanziato dagli stessi agenti. Una serie di tagli ai trattamenti economici nostri serve per finanziare un altro trattamento economico quindi chiunque è in grado di comprendere che c'è una mezza fregatura ed era questa che impediva ogni volta che io chiedevo agli esponenti di governo al ministro, allo stesso premier quanti soldi sono stati stanziati da dove vengono presi, come verranno distribuiti non ricevevo risposta. Sembra essere iscritto nel destino di noi poliziotti essere considerati capri e spiatori di ogni situazione negativa quelli cattivi e malvaggi che con la loro opera addirittura mettono in imbarazzo lo Stato e le pubbliche funzioni. Richeggiano così le parole di Tonelli sulle pagine del tempo. E ancora una notizia di cronaca arrestato a Isernia uno spacciatore di appena 18 anni sorpreso nella villa comunale in possesso di alcune dosi di ascisce pronte per essere ceduti ad altri studenti. Scattato il sequestro dello stupefacente i carabinieri si sono successivamente portati presso l'abitazione del giovane dove hanno rinvenuto ulteriori 50 grammi di ascisce per un totale di circa 100 dosi oltre ad un bilancino di precisione per la pesatura decine di bustine in cielo fanno per la confezionatura della droga. Il giovane è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso le camere di sicurezza dell'arma. E cambiamo argomento facciamo i nostri migliori auguri alla signora Emma De Benedittis in Criscuoli che ieri ha compiuto 100 anni e ha festeggiato il compleanno con la sua numerosa famiglia. La signora Emma è nata il 4 novembre del 1914 ha spento le sue 100 candeline al ristorante Panorama a Campobasso dove si sono riunite oltre 100 persone tra figli, nipoti, pronipoti e parenti della festeggiata. Una serata di grande emozione per la famiglia De Benedittis Criscuoli che ha potuto godere di una felice occasione di incontro. La redazione di Molise TV si unisce alla gioia dei familiari della signora Emma augurandole un buon compleanno. Adesso apriamo la nostra pagina sportiva. Il Campobasso ha ritrovato una vittoria che mancava da tre giornate ma soprattutto un duo d'attacco in grande spolvero per Simone Miani infatti è arrivata una doppietta pesante contro il Castelfidardo. Vediamo. Il Campobasso ha suonato la fisarmonica a Castelfidardese grazie alla giornata in grande spolvero dei suoi attaccanti. Di Gennaro e Miani con una doppietta hanno ancora una volta trascinato i lupi. Contentissimo sia per i due gol che soprattutto per il risultato finale. Era una partita molto tosta perché loro sono una squadra molto fisica che l'hanno messa anche sulla cattiveria. Noi siamo stati bravi a sbloccarla. poi c'è stato l'episodio del pareggio e siamo andati sopra sul calcio di rigore e poi anche se abbiamo sofferto un pochettino all'inizio del secondo tempo siamo stati poi bravi a chiudere la partita con il 3-1. Un Campobasso che secondo Miani non ha fatto rimpiangere le assenze. Avevamo due giulatori squalificati che per noi sono molto importanti però assolutamente chi li ha sostituiti ha giocato benissimo e come ho detto prima queste partite sembrano magari abbordabili ma non lo sono affatto e noi siamo stati bravi comunque a portarla sul binario giusto e vincerla. Per Miani che guarda già la maceratese la sfida contro i marchigiani sarà una vera e propria prova di maturità per capire le ambizioni dei lupi in questa stagione. Una squadra che dopo nove partite non è ancora perso sicuramente è una squadra con degli attributi e al di là dell'aspetto mentale che è molto forte ci sta anche un lavoro dietro che comunque lo esprimiamo sul campo e dopodiché adesso ci saranno anche dei scontri diretti molto importanti a partire da domenica e soprattutto insomma domenica a mecerata loro vengono da un filotto di partite buonissime hanno tantissimi punti però sicuramente troveranno un campo basso molto ostico che gli darà sicuramente molto filo da torce. È una partita importantissima non possiamo nasconderlo però sono sicuro che la squadra dal punto di vista mentale fisico e tattico si farà trovare pronta come l'ha fatto in queste prime nove partite poi sicuramente ci saranno anche gli episodi che come al solito contano tantissimo in una partita ma sicuramente la maceratese troverà un campo basso molto preparato. Ora non resta che lavorare sotto in settimana per preparare questa sfida al vertice contro la capolista maceratese in un confronto in cui i lupi venderanno sicuramente cara la pelle. In casa Granata c'è apprezzione per il tesseramento dell'attaccante nigeriano Ibe il presidente Melloni nelle prossime ore sarà Roma per verificare la tempistica per il tesseramento del giocatore il fax della federazione della Romania necessario per completare la documentazione non è ancora pervenuto nella capitale vogliamo vederci chiaro e capire quanto tempo ci vorrà per avere il ragazzo a disposizione non possiamo continuare a giocare senza un giocatore importante in attacco ha spiegato Melloni che a Roma cercherà di accelerare i tempi per mettere a disposizione di Donatelli un attaccante che abbia una certa confidenza con il gol e il Termoli ha ritrovato risultati e tranquillità ma soprattutto anche i gol dei suoi attaccanti Nicolas Di Rito punta giallorossa vede una squadra più concreta e determinata dopo la vittoria nel derby con l'Agnonese vediamo il Termoli ha cambiato modo di giocare a dirlo sono soprattutto i risultati maturati nelle ultime due giornate una squadra quella giallorossa che ora lotta su ogni pallone con grande agonismo anche Nicolas Di Rito è soddisfatto dopo essere tornato al gol anche se deve molto a Santoro suo assist man in questa stagione già per la seconda volta lui è un ragazzo che ha tanta prospettiva e niente noi le diciamo sempre che deve puntare l'uomo che per noi fa la differenza diciamo che noi puntiamo molto su di lui sulle sue caratteristiche il Termoli sta dimostrando nelle ultime due partite di essere tornato una squadra competitiva tanto carattere e determinazione diciamo che abbiamo cambiato un po' il modo di giocare con il mister Catalano volevamo fare il gioco un po' più bello a volte non riuscivamo però stavamo sulla strada giusta dopo con con il mister con questo mister nuovo stiamo lavorando diciamo stare compatti non lasciare spazi agli avversari avevamo bisogno di un risultato positivo stavamo lavorando bene e i risultati non arrivavano allora quando uno ha questa carica ha fatto il risultato importante a Nione e le cose si fanno più facili domenica andate a Celano Celano è una squadra che non sta attraversando un buonissimo periodo l'obiettivo è continuare così noi dobbiamo soffrire ogni domenica se vogliamo fare il risultato questo con i ragazzi l'abbiamo parlato dobbiamo soffrire dal primo minuto fino alla fine fare quello che ci dice il mister mettere le tute tutto quello che avevamo noi e dopo alla fine vediamo domenica si giocherà contro il Celano in una partita a porte chiuse per la squalifica del campo degli abruzzesi un vantaggio non da poco per la squadra di Cardamone che dovrà sfruttare al meglio la situazione ambientale favorevole e rimaniamo in casa a Termoli dove arriva un'altra Tegola proprio ora che sembrava essere tornato il sereno con due vittorie nelle ultime due partite infatti la società ha comunicato che il direttore sportivo Enzo Agliano ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo incarico al momento non si conoscono le ragioni di questa decisione molto dipende sicuramente dall'incerto destino societario del termolicalcio intanto preso atto della situazione la società ha ringraziato Agliano per il lavoro svolto finora augurandogli le migliori soddisfazioni professionali e cambiamo argomento ha saputo farsi valere la molisana Lisa Sandonnini nel campionato italiano cadetti di karate specialità cumite svoltosi a Ostia in cui l'atleta portacolori del Budokan karate campo basso ha conquistato un fregevole bronzo la portacolori del capologo di regione ha superato diverse avversarie prima di doversi arrendere in semifinale all'abruzzese Daphne Guidone la molisana però non si è scomposta e ha fatto sua la finalina con Sara Fusillo salendo così sul podio e questa era la nostra ultima notizia vi lascio alle previsioni del tempo grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Previsioni del tempo per giovedì 6 novembre la perturbazione continua la sua marcia verso Levante determinando una giornata con cieli da irregolarmente nuvolosi a nuvolosi con fenomeni sparsi in ulteriore intensificazione poi dalla tarda serata temperatura e rialzo sia nei valori massimi che nei minimi su valori diffusamente superiori alle medie di inizio novembre venti tesi mari fino a molto mossi o agitati Campobasso minima 14 massima 17 gradi Isernia minima 12 massima 21 gradi Termoli minima 18 massima 23 gradi Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso per i mille arrivere longa unità totale